8, 2, 1, buonasera, salve a tutti cari amici di The Abuse Game e benvenuti in questo 26esimo episodio della GMMOD, amiche di Detroit Become Human, ho fatto uno scherzo, è una carriera, salito schema? salito schema ragazzi, devi fare 5 stelle prima di 4 stelle, non ci credo, non ci credo, mi raccomando randellate, hai visto, ho randellato subito, dicono che ci si sente bene, ragazzi la prima è prova, siamo rimasti 4 ragazzi e non ci stiodiamo dalle 2 stelle, ma cosa si sta facendo, attenzione è Kofi su Zeider, perchè la Lancia non va mai a fare la spesa, perchè manda Rino, su Zeider, bravo Joshua, dopo 9 minuti e 50 di live qua veramente, eh perché volevo dire tutti i due nomi, l'alcol si spreca, Zeider, 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 rifai una domanda perchè? Mary il problema è che ne servono 4, 3 stelle raggiunte, maronna Lucarmi, 3 stelle dai dai che ce la facciamo, dai dai che è la sera, finale, vai la finale, ma Tommy in troppe di vita, se non possiamo vincere il primo colpo ragazzi, la rifaccio, mostra finale, mostra finale, solito schema, solito schema, no, chain breaker di Zeider, che ho vinto, Zeider, hai aiutato Zeider ormai, basta con il nuovo governo, ho detto che è uguale agli altri, io farei l'idea messa, Kofi, Kofi, no Zeider, oh mamma mia ragazzi, bella mossa quindi, se fosse bloccato il gioco giuro, giuro che mi cazzavo di bestia, ma perdonami, noi non abbiamo una finale, non possiamo usarla, ce l'abbiamo, si l'abbiamo, però siamo, io la userei, più che morti adesso, lo chiamiamo, vai Kofi, vai Kofi, e fu così che vissero al primo tentativo, aspetta, mamma mia, tre stelle e mezzo, fine dell'angoscia, manca veramente poco ragazzi, manca poco, il fatto è che oltre alle quattro stelle dobbiamo anche vincere, ma cosa fa Vito, ma è vero che non arriva più a quattro, abbiamo, abbiamo la speciale, attenzione, va a prendere la deltursa, la deltursa, abbiamo la speciale, attenzione ragazzi, attenzione ragazzi, attenzione, ma se sale piano ragazzi, ma se sale piano, ma se sale piano, cosa fare io, mossa dal paletto, finale caricata, finale caricata, non c'è troppo lontani, troppo lontani, no, Vito, Vito, troppo lontani, finale caricata, finale caricata ragazzi, tre stelle e mezza e un quarto, finale caricata, finale caricata, finale caricata, fine dell'angoscia, e c'è, e c'è, e c'è, e c'è, manca, mezzo, mezzo stella, non sale cazzo, Vito, Vito, mezzo, mezzo stella ragazzi, adesso possiamo salire sulla corda, che è vicino, più vicino adesso, non parlo male di Mattarella, vai Vito, vai Vito, Pai di ginocchio, crea così, sa il pò, c'è poco, sa il pò, c'è poco, Cristo, no, poco ma buono, non so più che possa fare io, ragazzi, no, riversata, reversata, il pò di Dinge, no, ogni card, no, attenzione, no, no, adesso no, noooooooooooo, nooooooooooooooooooooo voyevi porti fortuna, dai che ce guardate Fandango che va via subito, guardate Fandango, guardate Fandango, l'ho buttato fuori io appena entrato Fandango, Fandango ne ha uscito, Fandango lo script preveda questo, attenzione, avete visto, e guarda che manca veramente poco, vai subito su Artroute, e siamo a 3 stelle, 3 stelle arrivate, 1, 2, 3, 4, e manca il 1, 2, 3, 3, 4, e non è possibile non è possibile, tanto noi balliamo, dito negli occhi, vai che la sera, la sera buono, no 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 no, lo dice anche Tollosca, poi è stato molto buono, no, 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 si salva vita, si salva vita, si salva vita, Zayda sta in heartbeat, quando l'avversario era minato mai con una serie di pestoni pugni pugni come c'è l'attivazione domani ma due contro uno ma cos'è sta cosa che siamo a tre dai elimina artruth facciamolo finisce il video sta proprio iniziala speciale ragazzi scusala ma eliminalo vieni qua vieni qua eliminate vi aggiungono le stelle eccola siamo tre e mezzo siamo tre e mezzo amici eliminalo adesso lo alziamo via via sacraider via via vai 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 no vai ma cosa ha fatto ma cosa ha fatto ma cosa è stata fuori ferro dai vai ferro dai vai pestalo pestalo ma non ci credo non ci credo ci sono una donna del mio ma dimmi ancora ma dimmi ti devastante di zaita che ora sarà giudizio vai no no sai che arriva in braccia di te nooo siiii ce l'ha fatta non so come li stai fattando incredibile cosa sta succedendo il marocco vince 2-1 con la slovacchia incredibile ma il marocco è l'italia riposino intanto pomeridiano di vito zabroni allora che ce la facciamo cazzo dai che ce la facciamo fagli eliminare un po' tra di voi questo momento vorrebbe essere nel suo negozietto pagare la carne però purtroppo è qui è iniziato da 27 minuti da live sony e siamo ancora qui al terzo tentativo dai vito ma quanto ci vuole ma cristo cristo e meno male che vito sei e se ora con chi ce la prendiamo adesso ragazzi ho più ansia avrà che fare la maturità sempre Artruth sempre Artruth no che cosa fate nooo nooo dropkick di Artruth e siamo morti in terra fate più prese potenti tenendo premuto x e poi dai che ce la facciamo dai cristo mi tocca al shemus shemus no no reversalo ragazzi vai vitto shemus vai vitto shemus con te vai vai buttalo giù così ha preso la stella ma non si muove non si muove non si muove dai vai giunga 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 dai chi sta andando dai chi sta andando dai 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 cosa ha detto viva la fuga viva la fuga viva la fuga manca veramente poco ragazzi abbiamo la finale abbiamo la finale elimina il truut nooo non si capisce più niente qui elimina il truut no no salvati ti prego salvati cristo santissimo on 2 shemus aiutaci nooo 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 bastardi dai è un cazzo figa non ce la faccio più ragazzi ma vedo grigia si sta ricordando shemus dio madonna di dio stupra quel joypad cazzo ma ragazzi c'è praticamente quasi fatta non sento più le dita amici ed è tre ed è quattro c'è tre lineazioni quarta volta non sento più il pollice amici attenzione fandango no 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 strano eh perché non capita mai grandissima prestazione odierna di fandango anche il suo amore cristo dai che siamo tre stelle e mezzo dai che è la volta buona dai attenzione primo colore eliminato bisogna pelastrino Jack cosa vai a fare in palestra un'ora a premere i pulsati e via hai ragione aia gomitata devastante di designer ciao guido macri o macri lo sto diglia dalle scatole Matteo terrazzano si vede madonna ma come l'abbiamo eliminato ma come l'abbiamo eliminato ma come l'abbiamo eliminato niente dai distruggiamo dai dai goldy gould come l'abbiamo no non è versato il mio il mio il mio gioco ragazzi pompilio al momento dicono dicono no ma fai davvero god of war 4 nuovo ma io non l'ho ancora giocato quindi per me dai 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 ti sale mossa finale mossa speciale mossa speciale mossa speciale non sale non sale non sale e non fa male ma sale e sale ma sale e sale ma sale e sale ma attenzione ragazzi fine dell'angoscia e non sale una minchia no una minchia forse quella ogni tanto sale l'usabilità ruba mossa cos'è eh ruba mossa attenzione 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 a non farci buttare fuori schiviamo bravo vico bravo vico non ci credo che l'abbiamo schivata ragazzi ma me l'hai riversa tutto no alex mi viene da piangere l'ultimo fifa che ho comprato io sarà stato fifa 2000 e non sto esagerando mi annoio foro scatenato stavolta la vedo buona oh no no manditelo oh oh ma dai foro scatenato cazzo roma ma con che scioltezza mi hai eliminato con che scioltezza ragazzi ma con che scioltezza mi hai eliminato stai zider e 4 bravo ma dai ragazzi ma dai ma dai attenzione fandango ragazzi non ci credo non ci credo non ci credo stranamente è eliminato attenzione il suo amore non ci credo ragazzi non ci credo è eliminato riavviate attenzione cimus attenzione cimus non ci credo da 25 full peppino ti bomberesti charlotte eheh perchè no oh come bella l'uva fogherina dice enrico novello oh come bella saperla vendermia a far l'amore con la mia bella a far l'amore se voi foste a capo la wwe su chi puntereste come nuova punta di diamante risposta stupida titus risposta seria manco schiacciato l'ho eliminato stroman vabbè era nata male ragazzi avremmo dovuto riavviare subito attenzione perchè fandango è stato eliminato dal cimus non è che sono una senza amore potrebbe anche rimanere dentro ogni tanto gol del brescia di gritare guardatemi guardatemi attenzione attenzione gold tube questa è la volta buona pram zazaa maracaibo mare forza 9 zazaa io ne sapevo un altro maial calipo abbiamo mangiato i 9 ados ma so caga zazaa 20 ore il fandango vediamo se è anche play for jack a questa royal rumble attenzione schiva tutti e due dentro allora dav95 full secondo me dice una cosa geniale dai spegnete e non giocate più questo gioco ci fanno notare che il fandango non è stato ancora eliminato è vero incredibile ora è la volta buona guarda buona che lo elimino io credito ci hai divinato il fandango ci hai divinato il fandango ascolta 56 minuti a 1 e mezzo basta per sempre gold tube pepino cosa ne pensi dei tradimenti no non saprei cosa risponderti guarda al favore se ne va non esistono anche il fandango forza napoli sempre vedi fandango e salame neke vorreste essere il face tweener il il assolutamente ragazzi gioca pepino grande pepino e meno male che non partite con il numero uno no però la ferrari il 27 dal più fortunato e dalla rumble poi arrivò il giabrone vedi ragazzi che se Fettino fa 4 stelle e vinciamo la rango ci mettiamo al di là di primi intendenza su del live how you doing? Fettino la volo fame viva Fettino vai Fettino distruggili tutti devi cambiare mozza se non vuoi sulle stelle si fai sempre quello bravo perchè Arthruth mi porta via i clienti? ho fatto pepino che ti dovrei dire che devi premere R2 al momento giusto per reversare ma è troppo difficile let's go pep let's go pep non mi reversare stronzo pepino perchè mi traprendi una carriera da forno vivo ragazzi non puoi rispondere è troppo impegnato pepino fatti sognare pepino fatti sognare pepino un attimo riprendolo riposiamo vai se mi fai la loro 2 vai faccia fare loro 2 andavo ridendo scherzando stavo vincendo e ando a finale non salverla oh fai la finale subito allora noi siamo 99 e 7 abbiamo già una finisher quindi dovremmo averne due quindi siamo a un buonissimo punto tutto per merito di pepino ma lascia vendere avanti me maria chiede che ne pensate nel ultimo metto di underpick nooo contro il bronstromo maria anche a tutte queste domande no dai che siamo a 3 stelle e mezzo dai marcos hai detto qualcosa che non dovevi dire dai che abbiamo la finale fuori dai coglioni Zayde eh ma hai salito di poco dai che abbiamo la finale è una speciale attenzione momenti memorabili per loro ma dai ma che cazzo è questo madonna non pensavo di buttarsi fuori eh si vabbè eric Rowan si infatti vieni qua no mi fottola finisher ragazzi ragione mi vorrà buttar fuori sicuramente gol dell'olanda ah no ha preso eric Rowan ha preso eric Rowan infatti la canzone fortissimo la canzone fortissimo la canzone fortissimo la canzone fortissimo la canzone raffaele la sincar raffaele la sincar uh sgambetto vai e dai fagliela che ne sommiamo l'acqua ma non devo faggliela mi ha detto il ragazzo di non farla perchè vai spaccalo di pugni spaccalo di calci pestalo stagli la faccia vai vai continuare a raffica nooo 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 liberalo dai che ce la fai jack mi sto cagando a posto dai che ce la fai jack che è in mano tua è fatta siamo salvi incredibile guarda ci è mancato ragazzi vai dice di fare la mossa finale sgambetto devi farla perchè tanto non andiamo in più avanti comunque adesso è fatta tocco personale non è finito mi sale cazzo qualcosa è salito ti dico io cosa è salito stai in mezzo stai in mezzo e vai di pugno ma cosa faccio adesso? calcialo calcialo hai una speciale calcialo hai una finiscia schialcialo no non sale schialcialo ma non mi sale se gli faccio la finiscia ancora fagli pugni e calci a raffica pugnalo cosa ha fatto? dai 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 calci 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 a raffica attenzione pugnalo eh mi sta pugnando lui io mi giocherei la finiscia no non sale pugni questo me l'ha fatta lui me l'ha fatta lui la finiscia no no ce l'ha adesso lì eh mi hai fatto la speciale reversala bravissimo dai 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 pugni 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 dai 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 pugni calci calci 跟 pesto fred fred s guardo i commenti perché non c'è tempo adesso pugni e pugni ma non funziona più i pugni i pepigno non funziona più no manca poco dai davigli ma se li eliminiamo oii che sale se lo eliminiamo va su, è quello che manca non rischiare e se lo va su? no, fagli la speciale, che la finisce allora no! si! credo! manca un pelo! fa a me se lo eliminiamo si! si! ma non ci credo dai 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 no, non te la fa perché l'hai appena fatta dai 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 dalu'i calci in testa no! hai è verrà stare, voll? ma non come un milimetro dai 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 un puglio no l'ho fatta prima o l'ho fatta prima ? dai 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 schiacci la testa che calci eliminatelo con la finale schiacciagli la testa che calci ah cosa faccio? schiaccialo valietta mostra va giù zuppe for desta che le hai già fatte se riesce a fare niente a mostra che secondo l'ho mai fatta eliminalo con la finale dicono tutti Varsali brutta bestia come faccio a eliminarlo con la fai la finale dai in pugno si hai uscito ha fatto meno ma cosa faccio appoggiatelo alle corde e eliminatelo con la finisher ma mi stai dicendo di non eliminarlo con la finisher eliminalo cosa faccio io adesso ti darà un un millimetro qua e ce lo elimini no non posso ti elimina lui dai dai fai la mossa figa che ragazzi manca ti presenti quanto manca eliminatelo con la finisher no non è eliminato uno mi dice di non eliminarlo uno dice di eliminarlo reversalo che ha fatto me l'ho fatta 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 dai 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 io si allora lo ha tutto fuori adesso ma frega un po' niente basta come faccio devo mandare un paletto me l'ha schivata me l'ha schivata me l'ha schivata me l'ha schivata Fai la finale e eliminalo! Mamma mia, campioni! Abbracciamoci forte! E vediamoci tanto bene! Andiamo a Berlino! Perché oggi è più bello essere Vito Giavroni! Puttana che mai ragazzi, mai visto! Sto vedendo! Incredibile ragazzi! Incredibile ragazzi! Signori! Godiamocela tutto veramente! Godiamocela perché è meritata! Vado a casa me la guardo tutta questa! questa live! Minchia finalmente! Fine è vero! Per sempre! Presta al Minia l'anno prossimo! Noi dobbiamo vincere la Rambo! Salvate! Salvate il soldato Ryan! Sono tutto bagnato! 400! Ma dovevano darci 10.000 di punti! Avete dato su ancora eh! Si! Quindi basta vaffanculo! Ma vaffanculo proprio! Ma vaffanculo proprio! Ma vaffanculo proprio! Momento storico! We are the champions! Ragazzi tornerà Ray! Vabbè va dopo! Adesso dobbiamo godere! Vito! 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 Sto malissimo figlio! 1069 commenti! 8 ore di caricamento! Ho gli spasmi! Vito la messa! Ho gli spasmi! Vito la messa! Ho gli spasmi! Todd Mullin! Todd Mullin! Mullin! Non so bene anche che voce ha Mullin io! Eh sì! Ciao! Oh sì! Fantastico! Il Meneventi aspetta! A presto il Menea! Eh ma vaffanculo! Sto puntando alla vetta! Non mi sembra nemmeno di esserci! Tutto mezzo di tifosi e amici! Ho la gonorrea! Uno, due o tre ragazzi! Non mi sembra... Uno, due o tre! Uno, due o tre! Ma io stai chiedendo! Ah! Io ragazzi! Uno! Il primo ha detto uno! Eh! Finalmente posso iniziare la mia scalata verso la cima di questa montagna! Oh! È stato un mese pazzesco per te! Eh non dirlo! Eh! Tutti i pezzi del puzzle stanno tornando e la mio posto! Wesley Media! Ho visto René particolarmente inrifata dalla tua vittoria! Recalla! Perché non vai a festeggiare da lei? Dai dai! No no! Qua finisce ragazzi! E qua finisce! Perché quella puntata qua è dedicata alla Rumble! Ah basta! René non ce ne frega niente! René si attacca! Ma siamo sicuri che ha salvato? Finisce qua! Finisce qua! Un'ora e ventiquattro per vincere la Rumble! Ma ce l'abbiamo fatta! Sì! Un'ora e ventiquattro è la terza volta! Sì! Ah! Quindi sono tre ore! Abbiamo vinto la Rumble! Se volete farci i complimenti potete farlo nella nostra comunità di Telegram, sulla nostra pagina di Twitter e di Facebook e sul nostro account di Instagram! Credo che starò sveglio fino domani mattina per rispondere e per gioire con voi di questa straordinaria puntata! Ho salutato! No! Vuoi ricordare qualcosa? No! Non voglio ricordare niente! Voglio solo godermi questo momento! Quindi ragazzi per questa sera è tutto! E sabato tornerà Connor dicono! Dicono! E basta ragazzi! È stato bello! Qui finiamo la live e a presto! Ciao a tutti! Belli e brutti!